Oh, Rutilio. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ehi, come è? Bene, dai, te. Bene, dai. Sì, 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 dai. Cosa succede? Eh, non la suona bene. Mi sembra che il suono sia l'ultimo di problemi. No, la suona libera, come che voglio, bella alta, bella. La suona cupo. Fiamo suonare alta anche questa e magari sistemiamo il casservatorio. Andiamo a accordarla, dai. Dai, allora, dai che andiamo. Ehi, guarda qui che c'è qua. Ehi, guarda qui che c'è qua. Ehi, guarda qui che c'è qua. Anonimo. Bene, dai. Ti devo portare un po' che danni qua. Ehi, guarda qui che c'è qua. Ehi, guarda qui che c'è qua. Ehi, guarda qui che c'è qua. Proviamo a fare qualcosa. Dai, provi se hai accordato. Non ho fatto un po' di cuffie, eh? Non ho fatto un po' di cuffie, eh? Non ho fatto un po' di cuffie. Senti quello che c'è là. Sono alta adesso, senti. parigi, guarda qui che c'è qua. Ora, sulla come un violino adesso. Eci, un piedi, mi piace. Grazie a tutti.